Il 27 maggio non prendere impegni. Vieni anche tu in Villa Comunale e partecipa con noi alla Giornata Mondiale del Gioco, il primo di tanti eventi per grandi e piccini inclusi nel progetto Una Città per Giocare, in collaborazione con la cooperativa sociale Progetto Uomo e con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli. Dai un'occhiata agli eventi in programma consultando il sito del Comune di Napoli o il sito Una Città per Giocare. Grazie.